My Life Powered by Samsung Galaxy S5. Con garanzia Samsung d'Italia. Questa città ha bisogno di noi. Lo sai che è bello questo costume? Ti sta bene, chi te l'ha disegnato? Chiara Ferragni. Chi si nasconde sotto la maschera di barman? Scegli una delle tre opzioni. E se indovini, vinci un giro sulla bar mobile. Chi si è bello? Chi si è bello? Grazie.